musica 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 allora ma cavolo si chiamava sta cosa sfera letale dramatizzante no no sfera letale sfera letale della vendita si chiama fura divina purificazione no aspetta sfera letale della vendita eccola qui ci sta pure esplosione gigante lancia trionde del lavoro in attacco fondamentale dando loro nelle macchie tu prima si sbagli ho visto via che tu lanciavi tre cose e la mossa di che è l'esplosione gigante no no è buono però per questo livello no e questo livello no ti fa nido ti fa proprio via allora mp hai messo le hai messo le allora dove sta ecco qua la battaglia finale hai visto i cazzoli certo ve li ho messi a armando come ti senti come si carica dovevi tenere premuto senza lasciare i tasti devo fare esatto più tiene premuto più quella si carica llt c'è il l2 r2 quadrato esatto non li devi lasciare fino a quando non la lancia da solo capito 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 la spazio se non è uno spazio no sì la rapa che non ha senso perchè ti fa spossare Repeat no vedo questo non è io, questo lo dobbiamo fare dobbiamo andare tutti e due su uno secondo me no, forse no però dopo mi ti aiutai con Vaget solo Vaget ti shot ti fa spiegare tutte le cazzo e ma ci metti Vaget contro Broly su Xenus perché Vaget ti shot no, aspetta se lo utilizzi Broly ma che cazzo è succedente mi piace un po' questa razione tu fammi caricare giù sui due fammi caricare la vai tu da solo per ora non c'è oh l'ho lanciata oh mio dio l'ho sciottata l'ho w o o o o l'ho lanciata l'ho lanciata curia di una purificazione, è il momento di spammare mi trovo, è appunto tutti quanti è peccato ma quando oggi ci può iniziare l'ortre limite? dai sto piattone di merda solo una volta in tutta la partita no, l'ho fatto due volte lì ah, allora non lo so che non l'ho mai utilizzato l'ortre limite però questa volta mi sarebbe l'ortre limite perché sennò mi fanno... bravo, no, muoverò ma questa che cazzo stai troppo stai troppo da scine scine it's me, Mario it's me Mario c'è la canzone di Battle of Goals ma non peccato che ci dice ma lo sei potetto allora eh, ha fatto la... loro facciano lo spudo android ah, è vero, è giusto possono farlo per proteggerci ma già ma già ma già ma già meno tutta la video per fare tutta la video ma non è se no, tutto per amica non ci dà più equipaggiamento equipaggiamento che sta maur ok l'ho pompato allora, ora chi sta venendo Trunks e Zaman no, Goku e VG ho dimenticato tu vai su Goku e su VG VG Goku, vai su VG questa è la VG ecco c'è la VG nooo è verificato qualche VG vabbè vabbè pure Golden Freezer no, ho fatto la... no, ho fatto non fa niente non fa niente Goku è già morto a me pure di vita vabbè 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 E poi la vita è rimasta, è morto. Ok. Appena scudi lì. Fagli la mossa a Freezer che ti detto la vita. Non so se l'ho beccata, aspetta. Sì, che l'hai beccata. Perfetto. Dai che stiamo andando bene. Franks e Zaman. Allora. Voi facciamo. Voi prendi il Zaman. Voi prendi il Zaman. Eh basta. No, adesso, tra la cosa. Vedi tu Trunks, ho capito. Oh, ma chi è che sta spammando? Trunks. Allora, vedi Trunks, tu vi troppo. Aspetta, aspetta. Tu sei più forte di me. Va bene, vedi Trunks. Un po' Trunks. Ehi, a me, insomma, sei più mongodown. Guardate, scusate. No, però, Trunks spammando. È poco forte Trunks, praticamente. Anche perché. Inizio. No, non è un giro. Non è un giro. Non è un giro. Non è un giro. Ma come caso? Un giro. Ho deciso. Vi ad un attimo a tralanzia che mi ha rotto il vigore. Fai il quarto special. Che cavolo. Vai. Bella. muori bastanti equipaggiamento ecco la parte facile l'abbiamo fatta perché i problemi stanno fuggendo no mio dio adesso cominciamo a ridere no vedrò no vedrò va e tu te lo dico e non ci va va bene va bene vado io a film vedrò mattino 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 va bene va bene vabbè il danno ciò abbiamo fatto anche se c'era la scena no ma perché sei fanno i peggie ma non ci ha detto ma non ci ha detto ma non ci ha detto ma non ci sta lì non ci stanno leate il film di buone che non ha scortato un bastardo perché sta qui mi ha alleati il bivone tosta è tosta no va perché aspetta ok il meno alleati di vigore così che si vede tutto il vigore non riesco a muovere il video allora aspetta l'agliata purificazione nuovi domani non è vero molto non c'è la cazzo non c'è la cazzo ma mi sono preso a bim si sono preso di magizzato no ma c'è la miseria ma c'è più facile qua in mezzo ma non esco a fare nulla il testo mi ha rotti un piccolo fuoco no ma vedo sto morendo usa una capsula e il vigore me l'ha visto tanto in vigore qui lascia la miseria ma non c'è conoscenza non ci svegge beneee chi sapeggia ma chi è il missetto è un gradito birsu nooo anche questa spada no ho fatto la biazza che se conviene la Egitto Bidro 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 No, Beatle mi hanno notato tutto vivo, mannaccia, non sei. Dai, prendo Bills, dai. Guarda dai, sto accadendo il vuoto. Oh no, no. Mi hanno distruttato di vigore. Ma cosa fanno? E' a parto di chi si viene. La ritave della vendetta. E' un'altra se viene lui. Ma usa qualche cazzo. Ho visto, l'ho fatta prima. Basta, Zama, ce ne hai rotto le palle, ora muori. Cinezzo! Non l'ho beccato bene. Cos'è successo? Perché lo attraversa? Guarda questo fatto. Che cosa? Che quando stanno a terra, non li puoi colpire. Perché? Ho sempre fatto così. No, Beatle, ma se non muore. Ma... Ma... ...voleva così tanto. Ma... Ma... ...la città, un po' la lotta a vera. Di te, stai salendo al bis? Ma scherzo. Ma è vero. Stavo scherzando. Aspetta un po'. E poi vienala! Ma qui, di me, di sal... No, abbiamo arrivato a ottenere il vigore. Qui si rompe perché... ...si leva il vigore. Perché rompi i coglioni. C'è una mossa che si può... ...che io so... ...sbloccata. Che leva il vigore e rompe veramente i coglioni. Beccati questo, Zamasu! E di addio! Ah! Permitami! Arrivando. Carico un attimo. Comunque la carica che tengo io è modata. È l'unica cosa che tengo modata in questa casa. Bene! Gli hai fatto la mossa! Hai beccato tu! Carico! E mi sono smoglio un'altra volta! Eh, ma che sono morto! E ora potesse il momento di... Sfera della vendetta! Rese in vino! Quasi! 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 E teneva quattro strade di viso. Solo ho levato tre! Non fa niente, non fa niente! Adesso lo becco io! Ti alzi un attimo! Oh! Perfetto è andato! Ehheh! Problemi adesso! Pidro pure! Pidro, utilizza oltre il limite se l'hai fatto già, se non l'hai fatto ancora. Vido! Mo lo uso! Oh! Ok! Allora, capsula energetica oltre il limite! Non lo fa usare! Non lo fa usare! Non me lo fa usare! Eh, perché... Mi prendo oltre estinto, dai! Bene! L'hai preso in pieno! Ottimo! Lo sai, ora ti ricordo! Con la sfera che sono tutte e due... Siamo sempre! Quando... Quando Goku si è in blu... Quando Goku si è in blu... Qui c'è la... La sfera di Genkidama... E poi si è... Come si può dire? Si è... Vedo come si chiama? Si è... Ha imploso! Un tipo negativa! Un tipo di tipo quella! Nooo! È implosa! Perché era stata compressa dalla forza di Goku e di Giren! Eh, capite? Quindi... Sembra quella, eh! Se c'è per caso! Quasi che mi attacca... No! Gira! Sì! No! Sì! È molto Goku! Ma tu ragazzo! Gira lo! Ma cha***.. Ma guardiamo se lo dia... No! Career da drone è.. No.. Io non ci e ti ricordo tu che 57 di Giro... Quindi...? Perentolo come fa lui, però! baseballlation 2 combo fuori a dirà no l'ammaccata mannaccia quando rompe le palle pure abbiamo tre minuti carica 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 e adesso faccio no mannaccia l'orgine nostruosa abbiamo farmato la sperare della vendetta per fare questa missione ci abbiamo messo mamma mia adesso devi solo morire però rispetto a prima stiamo ciao ma per chi va se non sto uccidendo sono stronzo mi manca tutto vedo tutto mi schiva vuole la sfere tutto sono stronzo vai siamo due contro uno c'è una cosa ma c'è una cosa se me lo tieni ci sparo la spera quella lì più potente non me lo devi tenere aspetta non devi non chiedere più la carica non è finita vabbè dai ho fatto ho fatto io non la fare peccato 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 e ma dove sta non la vedo sta giù come osi tradire la giustizia io lo faccio no neanche questo vende un trastigno pure questo no si straffa i vestiti vai bravo anche io oh cazzo che cazzo due uniti stai scherzando deve solo morire no la schivata manca uno sfuto di ori si mamma mia 20 anni le faccio schifo portaci mostro portaci ma ma l'olio l'olio le hoceglianalucite fotografate con le note se faccio ff ok olha la mamma mia l'olio ma che cazzo è tal cazzo 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 Grazie a tutti.